Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per lavori fino al 28 febbraio, chiuso in direzione Bologna, il tratto tra Aglio e Roncobilaccio. Per traffico intenso, code tra Aglio e Barberino in direzione Roma, rallentamenti tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. In A11 per traffico intenso, in direzione Firenze, code tra Sesto e Firenze e Peretola, code a tratti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1. Sulla Fipili, in direzione Firenze, per incidente, due chilometri di coda tra Ginestra, Fiorentina e Scandicci. E in direzione Mare, code in uscita a San Mignato. La viabilità cittadina per lavori in via di Brozzi, restringimenti di carreggiata e senso unico da via di Cocco a via di Peretola. Moversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!